Bentornati sul canale, in questo episodio di From Zero to Hero andiamo a commentare delle partite che ho fatto con Runic Chimera quindi un po' diverso dal format normale in cui andiamo a giocare effettivamente in questo video andiamo a commentare tre partite che ho fatto ieri sera in live metterò comunque il link in descrizione per seguire le live e poi seguitemi su Instagram per avere comunque più informazioni insomma in merito a quelle andiamo a commentare diciamo tre partite che ho fatto con Runic Chimera, questa è la lista che ho usato diciamo che è abbastanza forte il mazzo, a me piace molto, è un mazzo Runic, un mazzo molto particolare, molto forte a danno primo sicuramente e a danno secondo l'engine Chimera comunque con super poli così ti aiuta ho deciso di giocare tre Chimera Fusion per giocare meglio attorno all'entrap, meglio attorno a impermanence, vader che siano quindi comunque avere più Chimera Fusion ti aiuta sotto questo punto di vista volendo si potrebbe togliere la terza Chimera Fusion per mettere ad esempio il terzo Bear Format però io mi sono trovato abbastanza bene così poi ho giocato tre super poli perché penso sia molto sinergica anche col mazzo e con la carta una delle carte più forti del mazzo è Gimp tu così vai ad avere tre scartini molto molto forti per Yujin la puoi scartare sia con Yujin che con super poli diciamo che è scartato e ti fa fare più due cioè è molto, c'è troppo forte secondo me sta carta in questo mazzo poi per quanto riguarda la side l'ho montata in base diciamo ai vari matchup che mi aspettavo così magari contro i combo avevo in totale super poli Evely e Droll contro ad esempio Labelint c'ho Ashe e Bell e contro magari i mazzi che fanno soft che comunque fanno FTK come ad esempio pure Leo Centurion cioè Eclipse in generale ho cercato di essere un po' più versatile con la side e poi vabbè l'extra va di conseguenza ovviamente ci sono i target di super poli questo è molto forte l'ho fatto poi come vedete in un replay contro l'unique bestial e poi vabbè SP e Typhoon ci vanno insomma quindi niente comincerei a farvi vedere le partite che ho fatto partendo dalla prima qui vinciamo il dado e diciamo che qui vabbè parto con una runique però che mi scarta i jimp quindi molto forte Yujin si prende impairments va bene tanto comunque avevo una runique quindi Fontana non riusciva a risolverla a meno che magari non provo a pescare però qua niente aggiungo faccio patchwork, aggiungo imp e poli faccio bareformat, normal qua mi prendo veiler qua lui comunque è una mano molto forte con 3 ht diverse prosperity e wanted lui fa po' cioè faccio poli, faccio chimera qua triggero gli effetti ovviamente bareformat non posso risolverlo perché non c'è target al cimitero però così vado a vado a avere comunque cota dal cimitero che è un'interruzione setto super poli e poi in end gli scarto uno quindi comunque mi sentivo abbastanza safe qua perché lui giocava a giocare con 3 carte in mano e io comunque ho super poli ho cota dal cimitero cioè me la gestisco bene lui fa wanted poi fa strega ovviamente non si dichiara strega però ok niente setta sinful qua decido di fare super poli perché se io faccio super poli in questo spot costringo l'altro a utilizzare la carta che è in mano per fare sinful però a quel punto io metto giù sta pelia e quindi qualunque mostro che evocasse con sinful l'avrei tranquillamente negato con sta pelia e quindi vedi questo spot qui lo costringo a evocare normal hash però comunque lui non lo fa va in end io attivo la chimera dal cimitero evoco bear format attivo bear format e mi fa hash dico va bene tanto ho sword knight in mano qua niente faccio sword knight e niente fondamentalmente si chiude la partita qua vabbè niente non ho la battle perché ho attivato la runic il turno 0 però vado talmente in montaggio che l'avversario concede qua raggiungo chimera fusion setto chimera fusion super poli e lui pass che passa e io attualmente non so contro che modo sono cioè so che posso essere contro rescue ace o contro fire king perché ho visto wanted e quindi vabbè lui niente qua parte molto forte con ferri e isola isola spacca barong raggiunge gar unix poi fa ferri raggiunge uno e la cosa che mi ha fatto più male in questa partita devo dire la verità è stata è stata come vedete adesso rise questo rise qua ma ma veramente fatto male perché mi ha bannato sia un bear format che una gazella cioè è stato veramente veramente devastante per il grand game però vabbè come vedrete mi farò un attimo con con le mie runic insomma lui passa così io qua ho due opzioni o vado a giocare in battle con Evely solamente che se attivo Evely comunque lui rimane con isola che torno dopo da fastidio e Evely non ha così un grosso impatto prefisco fare destruction così mi metto già la runic al cimitero eventualmente per fontana poi spacco la terreno e gli forzo sp e ferri ci ho preferito fare così anche perché così niente vabbè lui vabbè in stand by aggiunge ponix e arvata qua penso un attimo appunto vabbè faccio alla fine destruction lui c'è in sp e con questa destruction gli vanno due kirin e gar unix così che lui avendo due kirin bannati non può mandarlo di gar unix nel notturno e poi vabbè gli ho tolto un'isola quindi con destruction quindi non male niente niente cioè qua faccio faccio fontana solamente che non posso giocare attorno a a droll che è in mano droll è stato fortissimo in questo spot qui e niente fa droll setto evenly e passo in hand poi beh torneranno sp e ferri che diciamo che non sono quelli che mi hanno fatto perdere questo game ma i due top deck che seguono i prossimi due turni suoi perché lui niente qua attiva gar unix pack up onix mi va bene di turno pesca cosmico ovviamente sp e ferri devono tornare e pesca cosmic che è stato veramente fortissimo su fontana perché poi la pescavo due e cominciamo a grindare con le runic diciamo che era in vantaggio solamente che qua ovviamente gli faccio flash in fire su ferri perché non voglio che si faccia plus con ferri e ferri glielo devo levare qua attivo sp target a ferri e sword knight e attivo sword knight per far perdere il target a sp così spacco ferri gli vanno due qua gli vanno la seconda isola attivo fontana attivo bear format ma c'ha cosmic che mi ha veramente ucciso qui e niente poi aggiungo solamente una chimera fusion perché una gazzella è andata anche questo è molto rilevante posso aggiungere solamente uno e quindi niente qua lui entra in battle entra in battle vabbè attacca con tutti io a fine battle faccio evely così gli tolgo altre risorse già molte risorse sono andate quindi con evely gli tolgo veramente tante tante risorse perché alla fine si bannerà il secondo garunix e il terzo kirin quindi non ha più garunix non ha più kirin solamente che io non ho non ho engine cioè non ho pesco una dispelling e qui io non posso passare perché ho 1.9 di vita pesco a un mostro qualsiasi e perdo quindi deciso di qua l'altra giocata era fare yujin scarto però se faccio yujin scarto aggiungo fontana poi mi fa cioè turno dopo sicuramente cioè faccio una brutta fine insomma secondo me e quindi deciso di un attimo di giocare abbastanza griddi cercano di togliere gli sp lui io attivo sleeping lui attivo sp io attivo attivo chimera fusion fondi 2 per fare magnum attivo gazzella e ceno magnum per togliergli anche perché la battle non ce l'ho quindi per per levargli sp qua aggiungo kotel di gazzella niente aggiungo svurnite e lo evoco per avere un body in campo che che mi poteva aiutare qua potevo anche tenerlo in mano in realtà però per aggiungermi fontana dopo magari con una runic probabilmente si però qua pesca ferrir cioè una pescata dopo l'altra clamorose cioè pesca pescato cosmic che torno prima e mo ferrir niente qua posso mettere anche veloce perché qua lui evocherà ferrir mi outa mi outa quello non continuo l'attacco non ho capito il perché vabbè aggiungo skyburn con con ponix io qua attacco per fargli un po' di danno poi attivo destruction faccio sp gli banno ferrir però qui mi fa salet wolf attacca e niente non ho più nulla e fondamentalmente sono dopo perdo niente pure il g3 possiamo andare abbastanza veloci perché come vedete ho un mano troppo forte faccio tip in draw aggiungo fontana attivo fontana faccio yujin non attivo yujin perché ha tutte carte forti ma non voglio scartare pesco tip imp mi fa hash faccio colled e diciamo che qui la partita è già finita cioè non c'è nulla da dire cioè non qua faccio full combo chimera mi setup con le runic gli scarto una carta in più in mano ed è molto difficile anche perché con la board che vado a fare vado a giocare attorno sia storm che cosmic quindi sono molto parato sotto questo punto di vista gli scarto ferrir pure pesca un altro ferrir non ho capito perché qua non l'abbia evocato però va bene non è un problema mi fa skyburn io attivo kotel e fondamentalmente concile qui secondo lo vediamo subito contro runic bestial è stata una bella partita soprattutto g1 g2 mi ricordo che non è partito forte quindi però g1 è stato veramente veramente combattuto adesso vi mostro allora ho perso il dado quindi vado secondo lui parte con una bella mano tra virgolette perché non ha molto engine ma poi lo pescherà con fontana mi ricordo io parto comunque con la mano forte qua fa fontana e diregained pesca pure 1 perché mi ha bannato sword knight niente pesca quem e poi pescherà pure lubelion e quindi e quindi qua parte veramente veramente tanto forte aggiunge magdamut fa quem manda sword soul fa 3 edge pesca 1 e poi fa la solita combo con per chiudere con dispater e barone insomma niente qua fa dispater rievoca sword soul e fa barone insomma però la fortuna che ho è che non c'è le runic in mano anche se io ovviamente non lo sapevo però diciamo non le ha pescate quindi chiude barone dispater regained fontana con i due bestiali in mano e talent per il due no comunque un ottimo turno allora io qua c'ho super poly con imp cioè ho pescato imp di turno fortissimo io qua faccio spoli ovviamente gli fondo i due mossi faccio equiste qua faccio imp lui fa regained evoca di spater qua ovviamente dico va bene qua aggiungo patchwork allora quale cosa erano due o facevo flash in fire spacco di spater così posso cioè il mio raggiamento qual è stato se io faccio flash in fire su di spater glielo spacco poi provo a attivare effetto di equiste equiste ha l'effetto di bannare un drago sincrono dal cimitero di qualsiasi cimitero lo bandisco appunto lo targeto lo bandisco e copia gli effetti di quel mostro solamente che quando lo targettavo lui poteva accenarmi un beast che avevo in mano e così io mi toglievo la possibilità di fare la seconda runic perché ho due runic uguali quindi attualmente ho due runic attivabili non tre perché sono due uguali e quindi così non potevo non avevo la possibilità di di eventualmente pescare con fontana cosa del genere quindi ho detto aspetto perché lui ci può giocare attorno a questa cosa cioè io se io faccio flash in fire su di spater lui può fare gli attivo equiste lui fa bestial ci gioca benissimo intorno quindi secondo me non ha senso qua faccio patchwork ok aggiungo poli e imp qua faccio slumber faccio yujin yujin scarto imp me lo negherà con di spater dico va bene in realtà non è un problema e qua faccio sp per levargli appunto fontana perché io non sapevo ovviamente che non avesse che non avesse runic in mano quindi ovviamente devo bandargli fontana faccio swap knight evoco bear format attivo bear format giungo chimera e giungo un gazella qua faccio chimera fusion io qua voglio fare chimera per pulirgli il board e perché così facendo se io pesco se io con chimera pesco una runic qualsiasi che non ho a parte flash fire destruction pesco 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 3 fondamentalmente quindi lui io attivo chimera fusion lui attiva i due beastial tutte e due per per attivare bald drake sull'evocazione quindi io qua decido di fare chimera guardiana quindi sono il giocatore di turno dico c'è le 1 chimera c'è le 2 gazella lui attiverà sword soul perché ha bannato il tuner e bald drake ok e regained ok si aggiungo di gazella aggiungo kotel qua gli spacco regained e quem perché quem mi dava fastidio poi il tuner del mazzo cioè preferisco spaccargli quello tanto gli altri due monstri non sono un problema attualmente e pesco super poli se qua avessi pescato un un'altra runic è diciamo che che l'ho messo molto bene ma ho un'altra possibilità dopo per pescare un'altra runic però purtroppo non la pesco niente faccio flash in fire adesso faccio il secondo yujin attivo yujin qua non non scarto imp scarto super poli tanto super poli non mi è utile attualmente faccio prendo fontana faccio poli qua ok faccio magnum qua prova a ripescare l'altra runic per pescare tre ma non qua pesco un altro bear format quindi niente qua attivo fontana attivo magnum rimuovo spacco di spatter e qua diciamo che passo così perché non mi serveva fare flash in fire su baldrake e passo così sinceramente non mi serve non mi serve fare altro lui fa lubelion io qua sull'evocazione faccio flash in fire lui qua non ha senso che lo protegge con yujin perché tanto c'ho magnum ma gli banno la seconda fontana molto importante quella niente faccio fontana pesco 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 cioè tarchetto tre concede è stata una partita molto tirata molto molto difficile ma alla fine abbiamo vinto e poi g3 lui passa cioè pesca una mano orribile con due nibiru drawlash ecclesia passa così io pesco vabbè concede subito perché perché ha pescato comunque male e io comunque avevo una mano molto molto forte la terza vinciamo il dado cioè partiamo primi molto importante contro il mazzo che sto giocando che è infernoble e niente io g1 ovviamente parto fortissimo con yujin imp sword knight appunto due runic per risolvere fontana sono molto molto forte di mano niente aggiungo patchwork attivo fontana sword knight e evoco bear format attivo bear format per giocare un attimo attorno a drawl faccio così niente qua lui concede però essenzialmente essenzialmente facevo il ftk cosa che mi ha fatto lui io comunque ho sedato drawl perché ho visto 45 carte ho sedato sia drawl che heavily e tutto però metto in velocità per due diciamo perché qui mi lascio vedere la board che fa però era abbastanza irribaltabile insomma qua niente fa fa angelica con 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 wakawushi niente vabbè qua fa una combo avrà tra l'altro in mano pure cross out per farvi capire quindi veramente una combo che doveva risolvere una combo ftk proprio senza senso diciamo voglio dire il mazzo non è male adesso anche senza i soldi però è un po' più parte un po' più con più difficoltà insomma e poi con Nektor prima faceva i soldi adesso con Nektor ovviamente non fa poco e nulla qua mi chiude con un terreno spaventoso e niente vabbè qua concedo ci ho ragionato un attimo ovviamente ci ho ragionato un attimo se potevo risolvere Evely ma lui alla fine aveva l'anello angelica ring con i due link 1 che negano magie trappole e quindi avevo la possibilità magari di forzare però attivavo Evely e poi non facevo niente anche se se lasciava non so lasciava qualsiasi mostro non riuscivo a ribaltarla niente qua faccio in draw tip qua parto ancora con colled su coll su draw fortissimo e niente faccio fontana faccio cotto qua prendendoci colled qua magari era più giusto sono onesto qua era più giusto fare normal sword knight però magari ho detto magari mi fash cioè ho detto scarto colled magari mi fash su colled quindi colled me lo posso tenere però vabbè più che altro perché per draw avevo colled e quindi questa cosa qui niente faccio colled e niente qua parto di di combo e diciamo che sono abbastanza messo bene anche perché poi pesco di fontana gli scarto pure uno dalla mano cioè lui ovviamente non fa druidun perché non vuole farsi scartare magari waka usci wanted che sono le partenze che già e niente niente qua faccio flash in fire per pescare due faccio yujin non sleipnir perché avevo paura di che potesse avere storm e quindi faccio yujin così sono più protetto e niente qua pesco due pesco un'altra tip e draw è negato da colled quindi non fa niente ovviamente però basta tip in end gli scarto uno gli scarto ricerdetto lui pesca wakawushi e in main attiva wakawushi sull'attivazione della carta faccio tip aggiungo destruction così quando attiva l'effetto c'è no destruction non può attivare l'altra che aveva effettivamente in mano infatti fa wakawushi qua faccio fontana pesco altre due pesco altre due runic pesco destruction flashing fire ma è proprio ribaltabile lui fa witch witch attiva effetto faccio sword knight al cimitero e è definita così insomma niente il mazzo molto molto forte devo dire mi è piaciuto molto ve lo consiglio diciamo vi consiglio di provarlo e niente commentate seguitemi in live e ci vediamo al prossimo video